Crisi di panico e crisi d'ansia, in cosa si differenziano? Oggi lo scopriremo insieme, seguiteci. Bentornati a Prima Pagina Salute, oggi parliamo di crisi di panico e di crisi d'ansia, due disturbi che si somigliano, in effetti vengono scambiati soprattutto da chi ne viene affetto per le prime volte, eppure si trattano diversamente. Ne vogliamo parlare con una psichiatra e psicoterapeuta che oggi è con noi, la dottoressa Gabriella Tringale da Catania. Benvenuta dottoressa. Buongiorno, grazie. Allora dottoressa, come sempre nelle nostre trasmissioni cerchiamo di fare un po' di chiarezza prima di entrare nel merito dell'argomento. Intanto cos'è una crisi d'ansia e cos'è una crisi di panico e perché si confondono tra di loro? E allora, io farei innanzitutto una premessa più di ordine culturale, cioè dire nel linguaggio specialistico medico noi troviamo spesso dei termini che vengono poi a calarsi anche in quello invece che il linguaggio comune. Nel caso della, per esempio, immaginiamo al linguaggio della cardiologia, un innamorato che guarda la sua bella può dire che ha le palpitazioni. Bene, nel caso della terminologia psichiatrica, questo io penso sia ancora più presente rispetto a quella che è la terminologia di altre branche specialistiche. E allora a chi di noi per esempio non è capitata l'esperienza linguistica proprio all'interno del linguaggio comune di dire quando si è magari un po' più giù o non si ha voglia di fare qualcosa di dire beh oggi mi sento depresso. Però questo non significa che quella persona si affetta da depressione maggiore oppure qualcuno che, non so, un figlio che dica è mia madre maniaca dell'ordine. Non significa che quella mamma è affetta da disturbo compulsivo, ossessivo compulsivo oppure da un disturbo maniacale. E allora nella terminologia comune è possibile che queste cose vengano scambiate e che vengano confuse, però nella dimensione scientifica no. La confusione sta nell'intendere per esempio il disturbo di panico in analogia a un disturbo d'ansia, ma in realtà c'è come se avessero la stessa costellazione di sintomi. In realtà non è così. Nella dimensione scientifica il disturbo per esempio del tacco di panico, cioè il disturbo da panico, ha una caratteristica, delle sue caratteristiche specifiche, tra l'altro ben riconoscibili. Per cui per esempio la caratteristica principale è quella da parte del soggetto di un vissuto drammatico interno di morte imminente, di un vissuto di catastrofe che incombe e che tra l'altro porta ovviamente il soggetto ad attivare una urgente richiesta d'aiuto, per cui questo differenzia molto la violenza, l'immediatezza della comparsa dei sintomi, la drammaticità con cui questo avviene. La caratteristica del fatto anche sono sintomi tanto corporei quanto psichici. Bene dottoressa, allora a questo punto andiamo in ordine, una volta che abbiamo capito che in realtà per voi medici è piuttosto evidente la differenza. Cominciamo a parlare, lei ha già iniziato un po' a spiegarci come si manifestano le crisi di panico, quindi con questa sensazione di morte impellente, il paziente si sente quasi di morire, quasi che la vita lo sta lasciando, che il corpo lo abbandona. Quali sono gli altri sintomi? Cerchiamo di capirne di più. Sì, dicevo questo, il paziente viene colto da un corredo sintomatologico che è tanto corporeo quanto psichico. Dal punto di vista corporeo sono sintomi di tipo neurovegetativo prevalentemente, quindi il soggetto sente di avere dispnea, palpitazioni, cardiopalmo fino alla tachicardia, può sentire di avere sudorazione, anzi ha sudorazione profusa, tremori fini oppure tremori ascosse, parestesie, sono proprio questi formicolino alle mani e ancora capogiri, senso di svenimento, nausea, addirittura anche sintomi addominali, quindi il corpo veramente va in tempesta neurofisiologica, ma ci sono anche importanti sintomi psichici, oltre alla paura di morire c'è proprio il timore di perdere il controllo e di impazzire, oserei dire proprio il terrore di impazzire, che tra l'altro sintomi psichici che sono tra l'altro correlati da altri sintomi psichici non meno drammatici come per esempio la derealizzazione, cioè una sensazione di stacco da proprio un sentimento di irrealità, di estraneità rispetto alla realtà o anche la depersonalizzazione, il sentimento, cioè quella sensazione proprio di sentirsi staccati dal proprio corpo, quindi veramente un aspetto estremamente violento e che porta tra l'altro a proposito di sintomi anche a una serie di comportamenti ovviamente disfunzionali, cioè di disturbi comportamentali correlati perché il soggetto evita di chiaramente ritrovarsi in quelle circostanze che possono, per le quali lui possa pensare, possa scatenarsi l'attacco di panico, così come si mette anche nelle condizioni a proposito del comportamento di stare vicino a vie di fuga, perché la fuga serve per poter correre e chiedere aiuto, quindi comportamenti che possono arrivare anche a situazioni disfunzionali, disfunzionali a livello familiare, a livello sociale, a livello lavorativo perché appunto i comportamenti evitanti portano magari poi il soggetto a evitare di andare al lavoro per quella X condizione che lo porta nel terrore, si innesta proprio un circolo vizioso diremmo noi dove si innesta la paura della paura, cioè che si possa riattivare l'attacco di panico. Immagino che ci sia anche una ricaduta sociale, nel senso che un paziente che soffre di questo disturbo, di questi attacchi di panico poi sia terrorizzato anche da episodi che probabilmente vive con vergogna all'interno di luoghi affollati che non sono necessariamente le piazze e le strade ma anche i luoghi con amici, con la famiglia, con il lavoro per esempio, quindi questa è una condizione piuttosto tipica, lei me lo conferma di questi pazienti? Assolutamente sì, io penso a pazienti scolari che hanno avuto difficoltà, che non volevano rientrare a scuola, la vergogna, dice come faccio a spiegare? Anche perché tra l'altro colpendo improvvisamente proprio l'irruenza e la violenza dei sintomi veramente sono poi incontrollabili da parte del paziente, ma lo stesso vale per il lavoro. Rispetto a veramente la ricaduta sociale, non dimentichiamoci che oggi potremmo dire anzi che in questo periodo storico è diffusissimo il disturbo d'attacco di panico, tanto potremmo paragonarlo alla frequenza dell'isteria nel secolo scorso rispetto ai disturbi psichici e l'Ordine Mondiale della Sanità parla del 7% di persone affette nella popolazione mondiale di disturbo di panico e l'Istituto Superiore di Sanità parla di un milione, di oltre un milione di casi in Italia, quindi stiamo parlando di cifre importanti sul piano della ricaduta sociale, dell'importante del disturbo. Ci le chiedo ancora un dettaglio, secondo me non secondario rispetto alle crisi di panico, mi conferma che possono avvenire anche di notte, cioè quando il corpo di un paziente sembrerebbe nella migliore delle condizioni possibili, cioè quella del riposo e della calma, eppure molti pazienti sembrerebbe che si svegliano addirittura a causa di una crisi di panico. Assolutamente sì, il panico può cogliere in qualunque momento, però consideriamo anche la notte come un momento particolare, noi diremmo dove c'è anche un calo delle difese, parlo di difese psichiche strutturate, le difese della veglia, per cui il soggetto abbandonato in realtà, il soggetto in quel momento è anche abbandonato alle sue angosce. Sì, il disturbo, attacco di panico può capitare frequentemente, capita di notte anche nelle condizioni più serene di accudimento, ed è questo anche che sgomenta il soggetto, cioè non c'è la possibilità, a meno di cure, di poterlo prevenire. È un attacco a casa propria. Guardi, se posso dire una cosa, il disturbo di panico nasce, però viene denominato così perché è dal dio Pan, il dio Pan era quell'essere mostruoso, mezzo caprino, per niente sia così, è mezzo uomo, è umano, diciamo, che andava nel pomeriggio ad attaccare le ninfe per possederle, generando il timor panico, quindi ecco, questo improvviso attacco, diciamo, sta nel nome del disturbo, che può accadere anche di notte. Molto interessante anche questo richiamo alla mitologia, noi spesso ci dimentichiamo che gli antichi su questo ne sapevano davvero più di noi. Dottoressa, invece parliamo adesso delle crisi d'ansia, cerchiamo di descriverle in modo da poter tracciare definitivamente la differenza tra i due disturbi. Ma fondamentalmente le crisi d'ansia, la differenza sta proprio in questo, cioè nel fatto che non sono a cesso, non sono così violente, così improvvise, quindi possono anche essere crisi reattive a momenti particolari. Teniamo presente che la comunità psichiatrica attuale fa veramente uno sforzo nel definire, nell'aggiornare la classificazione nosografica dei disturbi psichici e attualmente, ovviamente usa la classificazione, si fa riferimento al DSM, al manuale statistico-diagnostico dei disturbi mentali che oggi è arrivato alla sua quinta edizione. E questo, cioè nel manuale, il manuale evidenzia, no? Individua un gruppo di disturbi appunto detti disturbi d'ansia, ma è un gruppo molto cuspicuo peraltro, dove sono presenti dei disturbi che hanno come caratteristica principale il fatto di avere proprio l'ansia come sintomo principale, ma l'ansia si può presentare in questi disturbi sia non solo in forma diversa, ma anche di intensità diversa. Ecco, l'intensità e la forma distinguono la crisi d'ansia. Le crisi d'ansia, per esempio, possono essere anche secondarie a condizione medica. Pensiamo a una crisi d'ansia, per esempio, secondaria a una broncopneumopatia, pneumopatia, per esempio, struttiva polmonare. Pensiamo a condizioni endocrine come l'ipertiroidismo, un feocomocitoma, ma pensiamo anche alle crisi d'ansia dei pazienti oncologici, la psico-oncologia ha grande, insomma, vasta letteratura rispetto a questo. Quindi in realtà quello che distingue l'attacco di panico dalla crisi d'ansia è proprio questo, cioè è la forma e quindi dell'ansia e l'intensità con la quale questa si manifesta. Bene, abbiamo tracciato la differenza, devo dire molto chiara, molto chiara anche per i non addetti lavori a questo punto e quindi facciamo doppiamente male a convodere nel nostro linguaggio quotidiano. Ma a questo punto parliamo di questi due pazienti, questi due pazienti arrivano, questi due differenti tipi di pazienti arrivano da lei, come vengono trattati? Lei è sia psichiatra che psicoanalista, quindi immagino che questa sua doppia veste le dia un passaggio in più, come dire, uno strumento in più per comprendere chi ha davanti già la prima visita, ma una volta compreso qual è la differenza in linea d'approccio da un punto di vista professionale, quindi dal suo punto di vista? Guardi, sostanzialmente la prima differenza ovviamente la fa la diagnosi differenziale, l'approccio al paziente, quindi al trattamento del paziente sicuramente quello oggi validamente testato è un approccio integrato, nel senso che il paziente può essere trattato e viene trattato sia psicofarmacologicamente sia psicoterapeuticamente. La qualità della relazione cambia anche nella misura in cui il soggetto che ha affetto d'attacco di panico, oltre al corredo sintomatologico di cui abbiamo parlato prima, in realtà instaura anche una qualità della relazione con il curante un po' diversa rispetto al soggetto che magari soffre di crisi d'anze, che cerca spiegazioni, che cerca di capire, cioè si mette in una posizione quasi di dipendenza nei confronti del medico nelle misure in cui chiede continue rassicurazioni e anche continui esami clinici per esempio, indagini diagnostiche, che possano anche queste suffragare, comunque rassicurarlo che non sta morendo, che il suo corpo non lo sta abbandonando. Si individua anche questo timore da parte del paziente di perdere proprio l'integrità psichica e corporea e quindi sia in entrambi i casi comunque è valido l'approccio tanto quello psicofarmacologico quanto quello psicoterapeutico. Poi anche lì sul tipo di psicoterapia da adottare questo va visto anche insieme al paziente perché comunque esistono più approcci, approcci seri per cui questo va visto anche in funzione delle risorse del paziente, però certamente l'approccio integrato è quello più consigliato e i dati statistici tirano questo. E se dovessimo parlare solo in termini diciamo strettamente farmacologici, sono le stesse molecole o che vengono usate probabilmente con dosaggi diversi? Sono molto simili con dosaggi diversi ma il dosaggio diverso comunque è anche relativo al paziente. Questo vale in qualunque branca medica cioè nel senso che il dosaggio verrà valutato in funzione del paziente perché ecco quello che è molto importante, dico importante sempre però, è la contrattualità terapeutica, l'alleanza terapeutica col paziente che devo dire nel caso del paziente con crisi d'ansia è un po' più stabile e mentre il paziente con attacco di panico spesso tende anche a un fare da sé legato proprio a per esempio può essere l'abuso di ansiolitici perché teme al terrore che possa ritornare l'attacco di panico e quindi a volte va oltre quella che invece è la prescrizione medica. Diciamo un'alleanza terapeutica è il monitoraggio continuo e costante del paziente nell'attesa che i sintomi possano rientrare insomma nell'augurio che si risolva proprio la patologia. Certamente l'approccio farmacologico è quello che garantisce una risposta più immediata e quindi può garantire anche di evitare che il paziente possa perdere la funzionalità, diciamo così, o comunque ridurre fortemente la funzionalità sociale, lavorativa, quella a cui facevamo riferimento prima senza che questo dunque arrechi un danno importante non soltanto alla salute del paziente ma anche alla vita stessa del paziente. Posso immaginare che sia utile intervenire tempestivamente con il medico perché voglio dire le crisi di panico potrebbero aumentare e in questo caso potrebbero anche come dire peggiorare la situazione. Decisamente l'intervento tempestivo assolutamente importante. Purtroppo nel nostro campo spesso si naviga un po' a occhi chiusi, troviamo le persone che a volte chiedono aiuto diciamo così un po' in ritardo, magari ci raccontano la storia di familiari, a volte anche di professionisti che così gli dicevano beh ma tirati su ma poi ti passa, è soltanto un po' di stress, insomma questa parola un po' generica, il calderone che raccoglie un poco tutto e poi chiaramente questo fa perdere tempo utile nell'intervento. Come veramente in tutte le patologie, la tempestività, la prevenzione, no? A che le cose possano, cioè i sintomi possano ritornare è fondamentale. Le faccio un'ultima domanda. Di solito i pazienti, soprattutto quelli affetti da crisi di panico, sono anche purtroppo imbrigliati nella maglia della depressione, cioè è possibile che tutti i pazienti o la maggior parte dei pazienti che soffrono di crisi di panico siano anche purtroppo dei pazienti depressi e viceversa, è possibile che i depressi che abbiano già questa manifesta a diagnosi purtroppo al loro carico si ritrovino molto facilmente con crisi di panico? Sì, assolutamente sì. Allora la depressione la possiamo considerare su un doppio versante nel rapporto con questi disturbi. La possiamo considerare come il fondo, come il fundus da cui poi emerge questo segnale di allarme, no? Pensiamo al panico. Oppure considerarla come un disturbo in comorbilità, quello che diceva lei prima, no? Cioè la copresenza di entrambi i disturbi, anzi è stato visto per esempio che è maggiore rispetto a un soggetto sano la presenza di attacchi di panico in soggetti con la depressione e quindi questo spiega anche perché nell'approccio farmacologico non si usano soltanto farmaci ansiolitici ma anche antidepressivi. questi farmaci possono essere assunti nei casi più ostinati per molti anni? A volte viene richiesta l'assunzione per molti anni ecco perché poco fa parlavamo anche proprio dell'importanza dell'approccio integrato tra psicofarmacologia e psicoterapia. in genere ecco quello che è importante, mi ripeto forse però, è il monitoraggio costante del paziente. L'assunzione ovviamente, cioè la prescrizione di questi farmaci ovviamente come in tutte le altre branche segue le linee guida per cui il farmaco può essere prescritto da 4-6 mesi fino a un anno, a volte un anno e mezzo, però è importante appunto vedere la risposta del paziente e coadiuvare il trattamento del paziente col trattamento psicoterapico. Ecco questo è fondamentale. Bene dottoressa, lei ha fatto davvero chiarezza su questi temi, purtroppo piuttosto diffusi, immagino più nella popolazione femminile, questa è una domanda fuori busta che le faccio all'ultimo minuto. Sì, devo dirle, sì, poi vabbè le statistiche variano, Europa, America, eccetera, però la popolazione femminile, ma devo dirle che ultimamente anche la popolazione maschile, quindi sì, però nella popolazione femminile è più diffusa. Bene dottoressa, stavolta la salutiamo davvero, salutiamo la dottoressa Gabriella Tringale che è stata con noi in questo nuovo appuntamento di Prima Pagina Salute, che ci ha parlato di crisi di panico e di attacchi d'ansia, la dottoressa è psichiatra e psicoterapeuta a Catania. La ringraziamo ancora, arrivederci. Grazie a voi, arrivederci.